Sta nella salda alleanza del recente passato tra PSI e PD il segreto del successo elettorale del centro-sinistra a Melfi. Per Navazio e i suoi alleati delle liste civiche è stato pressoché impossibile cercare di seminare Zizzania tra i due principali partiti cittadini. Al ballottaggio infatti Livio Valvano ha saputo confermare tutti i voti raccolti al primo turno e per lo sfidante, già consigliere regionale, non c'è stato nulla da fare. Valvano dopo cinque anni di amministrazione ne avrà altri cinque per portare a compimento il lavoro cominciato nel 2011. Non un caso se le dichiarazioni dei neoconsiglieri comunali o dei riconfermati di maggioranza sono improntate tutte al leitmotiv della continuità. Così è per Vincenzo Destino, giovanissimo segretario cittadino del PSI, oltre che per il ben più esperto Peppino Pietrantuono, papà del consigliere regionale Francesco. I due esponenti socialisti promettono anche di lavorare in favore delle classi sociali più povere e per il ripristino della viabilità rurale così da agevolare i collegamenti con le campagne. Infine Luigi Simonetti che con le sue 379 preferenze è risultato il consigliere più votato a Melfi e che conferma di voler proseguire sulle politiche di sviluppo avviate nei precedenti cinque anni nell'esclusivo interesse della città. Sentiamoli. Sarà un'amministrazione attenta ai bisogni della gente. C'è una grande emergenza povertà che non riguarda soltanto la nostra città ma riguarda l'Italia e l'Europa e noi come socialisti vogliamo essere attenti soprattutto ad impegnarci su questo fronte. Quali sono le emergenze della città di Melfi? È quello che ti dicevo, è una grande emergenza povertà, una questione sociale aperta, dobbiamo impegnarci per ridare fiducia alla politica, vogliamo metter fine ad una campagna elettorale strisciante che purtroppo continua, non vogliamo lo scontro tra fazioni, vogliamo giocare soprattutto un ruolo importante nella politica regionale. Io credo che sarà un'amministrazione molto attenta alle esigenze e alle problematiche della città e quindi in questo contesto il gruppo che si metterà al lavoro guarderà con attenzione a tutte le problematiche. Quali sono le emergenze di questa città? Secondo me le emergenze, io metterei al primo posto la ruralità delle strade di campagna, sono molto dissestate e quindi occorre un progetto per risolvere i problemi e rendere più agevole il transito dei mezzi per raggiungere le campagne. Seconda priorità metterei il centro storico, di cui si è sempre parlato però bisogna incominciare a fare qualcosa. Terzo, il collegamento tra Melfi e la località Bicocca per rendere più agevole il percorso e per permettere ai cittadini di arrivare, di partire e di arrivare prima dalla Bicocca a Melfi e viceversa. Un'amministrazione che come nella passata consigliatura guarderà gli interessi della comunità intera per costruire un rapporto positivo di questa città con il resto del territorio che la circonda. Avete amministrato per cinque anni, quali sono le emergenze di questa città? Le emergenze, più che l'emergenza è la prospettiva di questa città, è legare sempre più il tessuto economico delle nostre realtà, della nostra comunità con il resto del paese per creare sviluppo, coesione e soprattutto lavoro. È uno dei temi centrali che in questo territorio come nel resto del mezzogiorno bisognerà intensificare il lavoro perché questa città che è la capitale europea dell'automotive può essere la locomotiva della Basilicata se ancora di più intercettiamo la prospettiva economica dell'Italia e rispetto a questo incrociamo i destini della nostra comunità.